Ciao, sono Marina e la mia esperienza con Patrizia è stata da subito dal primo contatto telefonico molto gratificante. Mi ricordo che l'ho chiamata perché l'avevo vista su internet e mi aveva subito ispirato a contattarla per fare un lavoro con lei e da subito al telefono c'è stata una profonda sintonia e ho avuto proprio una sensazione profondamente liberatoria e di rinnovato entusiasmo in quello che è la consapevolezza del mio essere, di come posso migliorare costantemente non solo il mio stato d'animo ma anche le mie performance. Il lavoro con lei è stato veramente molto interessante e ringrazio davvero Patrizia per la sua verità, per la sua precisione, la sua grande umanità e posso assicurare che è una professionista estremamente valida nel guidare persone, anime particolari e in momenti particolari della loro vita. Le tecniche che utilizza sono tecniche veramente molto molto potenti e mi ha dato anche la possibilità di affinare e di allinearmi ulteriormente a quella che è la mia missione. L'avevo già abbastanza chiara è che con lei quello che è stato ancora più chiaro è stata la precisione chirurgica che lei ha nel identificare esattamente e nell'aiutarti a identificarlo poi dopo in modo autonomo quello che veramente ti appartiene. Ringrazio davvero Patrizia e ciao, buon lavoro!